L'Italia tra il nord e il sud del mondo è il tema di oggi alla Summer School di Marsala, la terza edizione, noi parliamo dell'argomento con Benedetto della Vedova, già sottosegretario agli esteri. Allora, il nord e il sud del mondo caratterizzati da un divario storico, il nord è più industrializzato, più avanti dal punto di vista economico, politico e sociale, il sud è notoriamente più povero, più depresso. Come si colloca l'Italia in questo quadro? Che paese è dal punto di vista economico intanto l'Italia? Dal punto di vista economico l'Italia è un paese che si sta o si stava riprendendo in modo troppo lento e ancora con tante lacune. Però direi che negli ultimi 4-5 anni abbiamo imboccato il sentiero giusto che è fatto di riforme per rendere l'Italia più competitiva per le proprie aziende, più attrattiva per gli investimenti e conti pubblici sotto controllo. Io credo che si debba continuare questa strada e possibilmente accelerare. Vedo segnali pericolosi invece di marcia indietro e sulla forza o meno dell'economia italiana si giocherà anche il ruolo o meno che l'Italia potrà avere come ponte fisico tra nord e sud, che nei prossimi 30 anni significherà tra Europa e Africa. Le chiedo invece l'Italia dal punto di vista politico e sociale, come la definisce in questo momento storico preciso? Io non sono neutrale, quindi il mio giudizio non è neutrale e naturalmente io sono preoccupatissimo perché vedo una spinta rivoluzionaria che non ha nessuno sbocco dal punto di vista progettuale e programmatico. La maggioranza politica che ha il consenso sicuramente maggioritario dell'opinione pubblica italiana da una parte ha individuato nel fenomeno dell'immigrazione una quasi ossessione, noi stiamo discutendo, per tre quarti discutiamo di quello e il futuro come si dice in questi casi dai nostri figli sicuramente non dipenderà da 100 sbarchi in più o 100 sbarchi in meno ma da quanto l'Italia sarà un paese innovativo, forte, competitivo. Dall'altra parte questa cosa per cui la cosa più importante è che non ci sono più quelli di prima e ci sono quelli nuovi ma non si capisce per fare cosa, quindi io sono preoccupato anche perché sediamo su una polveriera che è quella del debito pubblico e non si scherza, quest'idea del nazionalismo economico, del sovranismo monetario, guardiamo quello che succede in Turchia, in Argentina, stiamo agganciati all'Euro e all'Europa che ha delle regole ma che ci consente dentro queste regole di gestire un debito che da soli non sapremmo come fare a gestire, quindi io sono molto preoccupato e mi auguro che il governo metta da un canto tutte queste promesse mirabolanti della pensione ai cinquantenni, del reddito per tutti, delle tasse al 5%, al 15% e si rimbocchi le maniche per fare il lavoro del governo che è complicato, non dà risultati immediati e non può essere frutto di sola propaganda. E l'effetto dell'antipolitica? Questo governo sta facendo trionfare l'antipolitica, il populismo, ma dicevo qualcuno che bisogna avere il coraggio di essere impopolari per non essere antipopolari? Ma ormai non è più l'antipolitica, la politica di oggi sono i 5 stelle, la Lega, valgono oltre il 60% se uno guarda i sondaggi, sono la politica, non sono più l'antipolitica, il potere sono loro e non possono giocare a fare l'opposizione di se stessi, hanno tutta responsabilità, tutta la maggioranza. C'è un'opposizione? C'è un'opposizione che deve prendere le misure e capire che la situazione è diversa, smettere di pensare che loro hanno vinto per colpa di chi ha perso, hanno vinto, se lo sono meritato, adesso ci facciano vedere quello che sanno fare. E io temo che invece loro per continuare a essere popolari inseguano le loro promesse che non sono nell'interesse del popolo italiano e soprattutto non sono nell'interesse di chi ha meno. Una crisi argentina in Italia che se continuano con questa ostilità nei confronti dell'Europa, questa promessa di battere i pugni sul tavolo se no di andarsene, di uscire dall'Euro, è una linea politica che qualora venisse portata avanti senza se e senza ma penalizzerebbe chi ha meno, perché non sono sempre i pensionati. Oggi i pensionati italiani, anche con la pensione bassa, ha la pensione nella stessa valuta dei tedeschi, dei francesi. Io credo che se vogliamo difendere l'interesse dei pensionati dobbiamo lasciarli, consentirgli che la loro pensione continui ad essere pagata in una valuta seria, forte, perché promettere di raddoppiare o mettere tre zeri alla pensione passando dall'Euro alla Lira, come insegna l'Argentina o come insegna la Turchia, tu puoi anche avere una pensione di 10 milioni ma poi non vale più niente.